Leonard, Leonard. Sawyer, siediti. Perché? Che succede? Lo dobbiamo ricordare, glielo dobbiamo ricordare. Dobbiamo ricordarlo a tutti com'è bello. Cos'è che è bello, Leonard? Leggi il giornale. Ah, sì. Che cosa dice? Tutto male. È tutto brutto. Hanno dimenticato che cos'è la vita. Hanno dimenticato cosa significa essere vivi. Bisogna che qualcuno gli ricordi, gli ricordi che cos'è che hanno e cos'è che potrebbero perdere. Io sento la gioia della vita, il dono della vita, la libertà della vita, la veraviglia della vita. Beh, continuava a dire che la gente non apprezza le cose semplici. Lavoro, gioco, amicizia, famiglia. Era così eccitato che ha parlato fino alle cinque del mattino. Io non so se questa è liberazione, mania. O amore? Sì, giusto. Ma quello che dice è vero, però. Noi veramente lo sappiamo vivere.